Buongiorno e benvenuti nel mio canale. In molte attività lavorative ma anche di tipo educativo c'è l'esigenza di inviare dei documenti a delle stampanti per stamparli e eventualmente questi documenti possono essere messi in coda. Chiaramente in tutti i programmi si può stampare un documento aprendo questo documento per poi andare sull'opzione stampa che esiste praticamente sia in Word sia in LibreOffice, praticamente in tutti i software. C'è anche la possibilità di inviare i documenti per la stampa, ci dovrebbe essere anche la possibilità di inviare i documenti per la stampa anche nei menu contestuali. Questo per esempio è un documento che ho messo qui sul desktop, vado a destra del mouse, invia A e come vedete non c'è la stampa, c'è la cartella compressa per creare un file zip, desktop per creare un'icona nel desktop perché questo caso c'è già, un destinatario di un fax, sono due opzioni, un destinatario di posta, un dispositivo bluetooth oppure di mandarla in una cartella di documenti. Non c'è invece la possibilità di inviarla a una stampante una stampante né fisica né virtuale. Questo non succede solo nel desktop, succede in qualsiasi altra cartella di ExploraFile per esempio qui c'è lo stesso file, se va sul desktop del mouse, va su invia A come vedete ci sono le opzioni cartella compressa, desktop, destinatario fax, destinatario posta, dispositivo bluetooth e documenti. Vediamo come aggiungere a queste opzioni in via A anche una stampante o anche due stampanti se uno magari ne ha due o tre stampanti. Dunque per far questo si deve utilizzare soltanto ExploraFile e nient'altro. Si copia questa stringa di cui ovviamente io la metterò nel post di cui il link sotto il player del video, si va su copia, questa stringa, si apre ExploraFile qui si clicca per evidenziare il percorso, si incolla CTRL VU e si va su invio. Ecco, come vedete con questo semplice comando potremmo visualizzare tutte le stampanti che sono presenti nel mio computer quelle collegate al mio computer. C'è una stampante fisica, una stampante e poi le altre sono tutte virtuali chiaramente di programmi, questa è la stampante di Windows, questa è la stampante di OneNote, la stampante di Snugget eccetera eccetera. E apriamo adesso invece un'altra un altro ExploraFile questo qui, un altro ExploraFile con un altro comando, questo, shell send to, copio, ancora un altro ExploraFile qui, qui clicco per selezionare CTRL VU, invio e qui cosa ci sono qua? Qui ci sono proprio gli indirizzi del menu contestuale, invia U, invia A, cioè send to send to, come sapete in inglese significa proprio invia A. Magari questo ancoriamolo qua da una parte quest'altro, quest'altro ancoriamo da quest'altra parte, a questo punto noi per aggiungere una stampante in via A, basterà spostare una stampante qualsiasi da qua a qua, così, ecco fatto. Qui possiamo anche cambiare il nome, dentro del mouse mettiamo rinomina, stampante fisica, ecco fatto. Possiamo anche mettere, aggiungere un'altra stampante, per esempio questa, la spostiamo, possiamo cambiare il nome, dentro del mouse rinomina, stampante virtuale, ecco fatto. E adesso possiamo chiudere tutte e due le finestre di ExploraFile se adesso io clicco con il destro del mouse su questo, su questo file, vado su invia A, si vedranno anche le opzioni stampante fisica e stampante virtuale. Proviamo a vedere cosa succede con la stampante virtuale, io clicco su stampante virtuale e questo documento verrà inviato alla stampante virtuale, in questo caso verrà creato un pdf. Si salva il documento che chiamiamolo doc1, nella cartella nella cartella, magari si sceglie la cartella, doc1, si lascia salva, ecco fatto che nella cartella download è stato creato il documento in maniera immediata attraverso il comando invia A. Ovviamente io vi ho fatto vedere come si fa con una stampante virtuale, ma io se avessi cliccato su stampante fisica avrei stampato direttamente il documento nella stampante fisica e se ne avessi inviati anche due o tre di seguito uno all'altro, si sarebbe creato una coda della stampante e gli avrebbe stampati successivamente. Questo sistema di aggiungere le stampanti alla voce in via A nel menu contestuale che si visualizza su Windows sia sul desktop ma sia anche in qualsiasi cartella è un sistema come vedete molto molto semplice che non ha nessuna controindicazione e che può essere utile per stampare in maniera in pdf con una stampante virtuale oppure stampare fisicamente un documento in maniera molto semplice e sicuramente è in grado di diminuire il tempo necessario e quindi di ottimizzare il lavoro. Se poi magari cambiate stampante o volete aggiungere un'altra stampante o volete eliminare quelle che sono presenti, niente di più semplice, questi non sono altro che collegamenti vedete quindi basterà selezionare e andare su cance oppure andare sul destro del mouse elimina e sarà eliminato il collegamento nel menu di invia si va su elimina adesso c'è vedete stampante virtuale io vado su elimina e adesso scomparirà come vedete adesso è scomparso quindi è facilissimo sia aggiungere le stampanti sia sia fisiche sia virtuali come facilissimo anche eventualmente eliminarle se non ci servono più questo è tutto alla prossima volta grazie